LA Case Books presenta This Is Not, la serie, stagione 1. Questo non è un imprenditore, di Matteo Pittarello. Non mi piaceva il pesce e ho fatto una catena di sushi bar. Episodio 0 Vuoi essere mio socio? Sarebbe potuto nascere tutto da un incontro inaspettato, una valigia misteriosa o un'antica ricetta segreta. E invece no, la nostra storia è iniziata con una telefonata. Aria di sosta Mani tese sul cellulare. Lorenzo, furioso, richiamò il suo amico. Ma ti pare che io faccia una società con un tirchio che mi fa gli squilli? Riattaccò. Poi, girandosi di scatto, me la buttò lì, come quando si lancia un sasso nel lago senza un perché. Senti Matteo, che ne dici di diventare mio socio? Certe volte le idee arrivano come un fulmine a ciel sereno. Ne parli con chi ha intorno in quel momento. C'è chi sente e c'è chi ascolta. In generale l'ascolto non è una cattiva pratica. È apprezzata da chi parla e arricchisce chi la esercita. Quando parliamo diamo per scontato che quello che diciamo sia interessante. Beh, non è così. Siamo noi che, ascoltando, rendiamo interessante o meno ciò che sentiamo. Quando ho capito questa cosa, e a me piace parlare un sacco, ho imparato a fare qualche pausa in più. Non si sa mai che qualcuno non ti offra all'improvviso di diventare un suo socio. Questo non è un imprenditore, di Matteo Pittarello.